Parliamo di Shulk. Quella di oggi sarà una recensione per lo più spoiler quindi se non avete visto la serie uscite da questo video e tornate solamente dopo averla vista perché essendo una serie con uscita settimanale che ormai comunque si è conclusa, se siete qui vuol dire o che l'avete vista o che pure volete iniziarla per la prima volta quindi se vi trovate nel primo caso continuate tranquillamente la visione del video. Voglio iniziare parlandone un po' generalmente in realtà quindi voglio dire che finalmente c'è qualcosa di diverso all'interno dell'MCU un prodotto che mi ha sorpreso dall'inizio alla fine e che tratta dei temi davvero interessanti ci voleva una ventata di aria fresca all'interno dell'MCU soprattutto all'interno di Disney Plus visto che finora con le serie Marvel non c'è stata così una grandissima offerta tranne qualche episodio tranne WandaVision che continuo ad apprezzare in realtà e tra l'altro devo attribuire un grandissimo merito a Shulk ovvero una cosa che pensavo impossibile e sto parlando del fatto che è riuscita a farmi enormemente rivalutare Moon Knight perché sì, quel che ho detto finora nei riguardi di Shulk è una grandissima cagata e la serie è forse la peggiore al 100% delle serie Marvel uscite su Disney Plus ma andiamo con ordine, in realtà vorrei anche concentrarmi per lo più sull'ultimo episodio che è qualcosa effettivamente di diverso all'interno dell'MCU però no, no grazie, non è per niente originale come quel che ho sentito dire da molte persone no, assolutamente, niente originalità, anzi è una cosa che distrugge il 90% dell'MCU intero ma prima di passare a parlare della serie a tutti gli effetti vorrei invitarvi come sempre a lasciare un like per supportare il canale, iscrivervi se vi trovate qui per la primissima volta attivare la campanella per non perdere i prossimi video che arriveranno e se volete anche seguitemi sugli altri social, tanto i link sono tutti in descrizione, basta un click mi seguite anche sulle altre piattaforme e a voi comunque non costa nulla mentre a me può dare un grandissimo aiuto, quindi vi ringrazio se lo farete in generale io la serie devo ammettere, stavolta seriamente, che la attendevo prima dell'uscita del primo trailer al San Diego Comic Con dove sono state presentate alcune cose che effettivamente non mi hanno fatto impazzire tra cui lo sfondamento della quarta parete che speravo potesse rimanere una cosa attribuibile solo alla Shulk cartacea invece l'hanno voluta mantenere qui, all'interno dell'MCU e poteva essere tranquillamente una cosa pericolosissima per l'intero ecosistema dell'universo cinematografico perché pensate a un Captain America che sa dell'esistenza di qualcuno che lo sta guardando e che lui è all'interno di un film ecco, non è che cambia molto poi alla fine dal fatto che ci sia anche un altro personaggio che sia appunto Shulk, ok, lo fa nei fumetti ma non significa nulla ne parliamo anche dopo appunto pensate a una Shulk inserita all'interno di un Avengers e noi sappiamo che lei sa di essere finzione e io di conseguenza quindi non credo a quel che vedo per la maggior parte almeno perché non ci crede ovviamente nemmeno Jennifer Walters almeno in questa serie sembra così lei sa di essere finzione, sa di essere circondata da finzione e sa almeno nell'ultimo episodio scopre di poter cambiare quel che la circonda quel che le succede in generale e quindi la credibilità scende totalmente a zero sinceramente non voglio soffermarmi su tutti gli altri problemi di questa serie ovvero che presenta i personaggi più terribili dell'MCU tra cui Titania e non Tatiana che è l'attrice che interpreta Shulk Titania davvero è uno dei personaggi più demenziali, più brutti dell'intero Marvel Cinematic Universe, infatti spero di non vederla mai più non ha un minimo di senso, non viene spiegato il perché alla fine del primo episodio distrugga il tribunale e così totalmente a caso decidano di rilasciarla già nel terzo o quarto comunque decidano di rilasciarla senza alcun problema stava per uccidere delle persone, ok? è un influencer, va bene, ma se un influencer va a finire in galera per un'accusa di tentato omicidio non è che viene rilasciato effettivamente giorni dopo il vero problema è che non ho apprezzato nemmeno tantissimo Shulk Jennifer Walters, la cugina di Hulk, di Banner perché, ok, ci viene presentata da subito come un personaggio abbastanza saccente che sa di essere quel che è e quindi è una donna abbastanza forte ci può stare questo, però con il corso della serie la sua caratterizzazione cambia e cambia tantissimo se con Hulk nel primo episodio sembra tanto sicura di sé quindi mette anche i piedi in testa e dei piedi, soprattutto dei suoi, se ne vedono tantissimi se nel primo episodio mette i piedi in testa al cugino poi nel resto degli episodi si fa mettere i piedi in testa passando a un altro argomento in questa serie ho visto tantissimo Patty Jenkins con la sua Wonder Woman 1984 infatti il 90% degli uomini, dei personaggi maschili in questa serie sono o degli stupidi parlando per esempio di Hulk anche Hulk viene presentato in modo totalmente diverso o Abominio loro sono cambiati enormemente anche solo da Avengers Endgame o da Shang-Chi ma ci sono anche i personaggi maschili che sono proprio cattivi e anzi l'impressione che ho avuto è che il nemico maggiore di questa serie sia proprio il genere maschile ok, ci sono personaggi che in realtà sono decenti ma anche se vengono a volte presentati come stupidi forse Daredevil è l'unico che non viene presentato così però poi abbiamo appunto anche Pug anche Pug in realtà cambia caratterizzazione da un momento all'altro quando ci viene presentato nel primissimo episodio in cui compare ovvero forse il secondo o il terzo comunque da una cartina a She-Hulk con i bagni migliori del posto e poi nell'ultimo episodio così totalmente a caso sembra uno di quei fighi che sanno tra l'altro di essere fighi vabbè parlando poi della rottura della quarta parete per me è un grandissimo problema tralasciando l'episodio finale dove la rottura della quarta parete è l'episodio direttamente ma ripeto comunque per me la rottura della quarta parete è un grandissimo problema all'interno dell'MCU eh ma lo fa nei fumetti ok non me ne frega nulla perché molti personaggi fanno tante cose nei fumetti o hanno avuto cose nei fumetti ma non per questo è possibile portare queste cose all'interno di un prodotto seriale o cinematografico per esempio potrebbe essere un esempio un po' strano ma in una certa era dei fumetti DC Superman aveva il potere di sparare delle mini copie di se stesso dalle mani avete per caso visto questa cosa in Man of Steel di Snyder vabbè che Snyder non legge i fumetti però mi avete capito no perché è una cosa stupida ok è una cosa che ha fatto solamente per un certo periodo all'interno dei fumetti mentre il fatto che Shulk rompa la quarta parete nei fumetti è una cosa un po' più caratterizzante del personaggio ma non stiamo parlando di questo stiamo parlando di cose possibili all'interno di un prodotto seriale o cinematografico e cose no è la rottura della quarta parete in un universo in cui finora era tutto reale tra virgolette ovviamente tra tantissime virgolette tutto realistico il fatto che ora un personaggio sappia dell'esistenza di qualcuno che guarda le MCU per me è un grandissimo davvero enorme problema passiamo direttamente all'ultimo episodio collegandomi appunto al fatto della quarta parete perché sembra che ora dopo che Shulk ha fatto quel discorsetto con K-E-V-I-N non Kevin Feige Kevin Feige probabilmente il personaggio non romperà più la quarta parete o almeno non avrà più il potere di farlo di entrare nel mondo reale non ho capito bene questa parte della scena però sembra che sia cambiato un po' l'errore del sistema così viene chiamato dal robot che impersonifica Kevin Feige però almeno sul finale sembra che il personaggio non guardi più in camera o non faccia battutine strizzatine d'occhio in generale allo spettatore quindi magari in futuro si potrebbe aggiustare questo fattore potrebbe essere ma io ripeto il personaggio sinceramente non lo voglio più rivedere né in una serie ma è stata già confermata la seconda stagione e nemmeno in un film ci sono dei rumor che la vogliono in Captain America 4 io sinceramente dopo aver visto quel che succede nell'ultimo episodio se comparirà davvero in Captain America 4 chiamato New World Order non crederò minimamente a quel che vedo con l'ultimo episodio se devo essere sincero al 100% quando compare la schermata di Disney Plus ho fatto un sorrisetto pensando poi a quello che avrei visto da lì a poco il sorrisetto è cambiato in una sorta di disperazione perché dopo ben 9 episodi e quindi quasi 3 mesi di attesa del finale quindi con le diverse sottotrame la trama del sangue la sottotrama di Hulk che va su Sakaar vabbè quella è una cosa che poi svilupperanno in un film così viene detto da Kevin Feige da K-E-V-I-N così viene chiamato il fatto che dopo 9 episodi queste cose vengano liquidate con un semplice robot che dice ok leviamo questa trama perché la protagonista non la apprezza ecco fa un po' girare le palle sinceramente e la cosa che mi fa diventare più verde dalla rabbia come nella copertina di questo video è il fatto che questo finale arrivi dopo qualche episodio che effettivamente stava un po' giustando il tiro nella serie con quello di della terapia di gruppo con Emil Blonsky ecco quella non mi aveva fatto impazzire così tanto ma almeno era uno dei migliori episodi della serie poi arriva l'episodio con Daredevil che ho apprezzato ma nemmeno poi così tanto per Daredevil ok mi è piaciuto il personaggio voglio rivederlo in futuro quindi il fatto che l'abbiano un po' cambiato caratterialmente da quella in controparte di Netflix che a questo punto non sono assolutamente lo stesso personaggio e chi dice questo non capisco da dove abbia preso questa informazione perché si capisce benissimo che non è assolutamente lo stesso Daredevil di Netflix e non solo per il costume cambiato io per lo più l'ottavo episodio l'ho apprezzato per il finale per il cliffhanger in cui appunto Hulk e She-Hulk diventa una Hulk arrabbiata a tutti gli effetti perché ha subito un revenge porn ed è una cosa sinceramente molto adulta per un prodotto di Disney Plus della Marvel una cosa che non mi si è rispettato ma in generale questa serie si è spinta un po' più in là per alcune cose infatti qualche primato seriamente She-Hulk ce l'ha ma non ci sono solo primati positivi ovviamente in ogni caso davvero sono totalmente arrabbiato del fatto che sia finita in questo modo che sia finita è un parolone in realtà perché non finisce la serie si risolve tutto perché sì perché Hulk perché She-Hulk decide che deve concludersi hanno semplicemente eliminato le trame non hanno fatto nient'altro e no non è assolutamente una cosa originale super sorprendente il fatto che l'abbiano voluta far concludere in questo modo giustificando che non avevano voglia di scriverla solo perché appunto viene detto nello stesso episodio che ormai l'MCU sta diventando qualcosa di diverso che la qualità è scesa Kevin il robot lo dice proprio che lascia i commenti a internet lascia decidere a internet quali prodotti siano buoni o scarsi e per lo più ultimamente sappiamo che cosa ha prodotto l'MCU nella fase 4 e per quanto mi riguarda lo dico già adesso deve ancora finire con Black Panther e poi c'è anche lo speciale dei Guardiani ma la fase 4 è la peggiore dell'intero Marvel Cinematic Universe speriamo per la fase 5 spero in realtà anche per Black Panther perché voglio vedere qualcosa di decente questa volta ma l'ho già detto non mi ricordo in quale video forse quello su Licantropus che vi lascio qui la mia top la mia lista prodotti buoni della fase 4 comprende solamente WandaVision Doctor Strange nemmeno Eternals perché l'ho riguardato ed è lentissimo noiosissimo ho aggiunto appunto Licantropus She-Hulk ovviamente no non vede questa lista da lontano con 4 cannocchiali non uno e spero vivamente in Black Panther e anche nello speciale dei Guardiani solo perché c'è James Gunn perché sono i Guardiani ho letto di gente che si complimenta con la serie di questa geniale idea di lamentarsi essa stessa dei problemi di She-Hulk ovvero anche del budget c'è Kevin che dice trasformati in Jennifer perché abbiamo un basso budget e costi tanto quindi ma fallo comunque fuori fuori inquadratura perché la trasformazione effettiva costa tanto ecco per me quello non è essere geniali è semplicemente pararsi il culo da possibili critiche ma le critiche comunque le stanno ricevendo e non mi basta assolutamente che nel centro di controllo quel che è di Kevin vengano citati gli X-Men venga citato un possibile film di Hulk che penso ormai arriverà visto il finale con la presentazione di Scar che è orrendo me lo sognerò per ancora qualche notte non mi bastano questi riferimenti non mi basta che ci siano i timpani di Black Panther mentre si parla della CGI mi serviva semplicemente un finale cosa che questa serie non ha avuto ha avuto una scena lunghissima in cui la Marvel Kevin non so chi cerca di coprirsi il sederino perché probabilmente gli sceneggiatori non sapevano minimamente come far finire nove episodi e quindi via di cancellazioni di trame ma proprio esplicitamente c'è Kevin che dice ok cancelliamo la trama del sangue dopo nove episodi in cui vediamo questi nove otto quel che sono vediamo gente che cerca di rubare il sangue a Jennifer tutto cancellato senza problemi dai che cosa cambia poi tra l'altro si ritorna anche a uno status quo per quanto riguarda il personaggio di Abominio perché ritorna in carcere e di nuovo nella post credit poi vediamo Wong che lo porta con sé lo fa evadere quindi a questo punto dopo tutto quel che abbiamo visto nella serie Wong che ha avuto anche problemi con la legge non lui effettivamente ma ha fatto causa un tizio dopo che comunque c'è qualcuno che gli dice ma vedi che hai fatto evadere un prigioniero e lui se ne scappa tranquillo lo fa di nuovo senza problemi non succede nulla vabbè lo fa evadere ma non è che cambi qualcosa e a questo punto penso che in qualche altro prodotto non so come non so quando non so neanche perché lo vedremo a Camartage che forse diventerà uno stregone non mi immagino assolutamente Abominio stregone con i poteri di Doctor Strange o di Wong quello che volete ma a questo punto sarà così non credo che andrà a Camartage solo per vivere lì anche perché appunto abbiamo visto anche in Doctor Strange nel multiverso Madness che lì c'è anche America Chavez che si sta allenando quindi o sei lì per allenarti o non dovresti essere lì tornando all'ultimo episodio stava anche iniziando in un modo che ho adorato infatti c'è un una parodia comunque un rimando all'incredibile Hulk di Luferrigno quello degli anni 70 però raccontando e riassumendo la storia di Jennifer infatti fa da episodi precedenti in un altro stile quella cosa mi era piaciuta tantissimo poi l'episodio in realtà stava anche andando bene fino a quando non si sono presentati tutti in realtà a questo punto per buttarle in cacciara potevano far comparire Daredevil far comparire non so Wong tutti quelli che erano comparsi finora per farla proprio per buttarla totalmente allo sbando invece hanno fatto comparire Titania Abominio il tizio stupido che diventa un Hulk che tra l'altro ha una CGI migliore di quella di She-Hulk devo ammettere lo stesso Hulk comunque da lì diventa tutto uno schifo e anzi peggiora andando avanti e non migliora come vogliono farci credere loro con questo stop di tutto stop della serie fixing del finale che comunque non c'è non c'è un finale ragazzi lo ripeto aspettiamo ormai gli ultimi prodotti della fase 4 poi la fase 5 inizierà con Ant-Man Ant-Man and the Wasp oppure con Secret Invasion adesso non è stato ancora confermato l'ordine dei due prodotti sappiamo che Ant-Man 3 arriverà a febbraio ma non si sa se Secret Invasion inizierà già a gennaio non penso penso arriverà verso marzo quindi magari si inizia con Ant-Man fatto sta che nel complesso la fase 4 è abbastanza fallimentare e mi dispiace tantissimo si sente probabilmente che la MCU durerà ancora solo per qualche anno credo che alla fase 7 non ci arriveremo mai penso che gli X-Men se non in qualche prodotto così scaglionato all'interno delle altre fasi le fasi che stanno arrivando non li vedremo mai ma a questo punto lo stanno volendo loro con questi prodotti con Moon Knight con She-Hulk ripeto Moon Knight l'ho rivalutato ma non in meglio diciamo l'ho rivalutato pensando che non è più la peggior serie dell'MCU perché appunto She-Hulk ha preso questo suo posto grandissimo pregio naturalmente ma ragazzi fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate vi è piaciuta la serie non vi è piaciuta fatemi sapere tutto quello che volete vedremo come tratteranno il personaggio in futuro la seconda stagione è già stata confermata probabilmente arriverà un film su Hulk e penso che She-Hulk la vedremo anche se Kevin dice no non sarai mai sul grande schermo ma penso che la vedremo prima o poi anche perché introdurre un personaggio così in un sistema come quello dell'MCU in cui nessun personaggio rimarrà mai solo all'interno del suo prodotto di origine credo che la vedremo magari in una Avengers Secret Wars oppure Kang Dynasty comunque è una cosa che mi fa paura visto quello che abbiamo visto soprattutto nell'ultimo episodio come sempre vi invito a lasciare un like iscrivervi se non siete iscritti attivare la campanella per non perdere i prossimi video seguirmi sugli altri social i link in descrizione pampling anche in descrizione codice il pensiero 4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis e niente io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao